Musica Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Ciofi. Iniziamo dall'udienza generale di ieri mattina nella quale Papa Francesco ha incentrato la sua catechesi sul tema perché bisogna andare a messa la domenica. Il Santo Padre ha sottolineato che solo con la grazia che riceviamo da Gesù diventiamo Suoi testimoni. Il servizio dal CTV è di Benedetta Capelli. Vediamo. La qualità della vita cristiana si misura nella capacità di amare ma è nella messa che riceviamo da Dio ciò di cui abbiamo bisogno. In questo passaggio della catechesi all'udienza generale in aula Paolo VI il Papa ha ricordato che solo con la presenza viva in noi di Gesù possiamo diventare testimoni credibili. Francesco ha aggiunto che è la messa che fa la domenica cristiana ma che in molte società secolarizzate si è perso il senso di questo giorno. È necessario ravvivare, ha detto il Papa, questa consapevolezza per recuperare anche il valore del riposo che ristora l'anima. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall'Eucaristia, a fare della domenica quasi universalmente il giorno di riposo. L'incontro domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l'oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza. Nella messa di questa mattina a casa Santa Marta il pontefice ha parlato della tenerezza di Dio. Il Santo Padre ha ribadito che Dio non solo ci aiuta ma ci fa anche delle promesse di gioia di un grande raccolto per aiutarci ad andare avanti. Un Dio, ha ripetuto Papa Francesco, che non solo è padre ma è anche papà. Il servizio. La tenerezza di Dio è nell'incontro con il Signore che guarisce la nostra piaga. Così il Papa nell'Omelia della Messa a casa Santa Marta commentando la prima lettura tratta dal libro del profeta Isaia. È la tenerezza la guida della sua riflessione quando Dio si fa padre e madre, si fa piccolo per avvicinarci e salvarci come il bimbo Gesù nella mangiatoia. Dove si può trovare la tenerezza di Dio? Ha chiesto Francesco. La risposta è nella nostra debolezza, nelle piaghe che solo il Signore può sanare. Il Dio grande che si fa piccolo e nella sua piccolezza non lascia di essere grande e in questa dialettica grande e piccolo c'è la tenerezza di Dio. Il grande che si fa piccolo e il piccolo che è grande. Parliamo ora del Sud Sudan, paese verso il quale Papa Francesco ha espresso diverse volte la sua preoccupazione così come le sue preghiere. Da Vatican Magazine ascoltiamo le parole di padre Bill Firman, direttore di Solidarity with Sud Sudan. Vediamo. La situazione in Sud Sudan è piuttosto instabile ma non è così drammatica come talvolta viene riportata dai media. è iniziata con due parti in disaccordo, è sfociata verso la guerra ma effettivamente è più corretto parlare di un degrado verso l'anarchia in cui nessuna delle due parti ha un controllo reale e completo. Le divisioni tribali si sono acuite ma non è una situazione disperata. Ritengo si debba lavorare per una generazione di leader più consapevoli e nelle nostre scuole abbiamo una scuola per preparare insegnanti, un istituto per infermiere e ostetriche. Gli studenti vengono da tutte le tribù, vivono e interagiscono insieme abbastanza bene e imparano non soltanto ad essere buone infermiere, ostetriche o insegnanti ma a vivere in pace ed armonia, diventando amici e riconoscendo di condividere una comune umanità. Si sono tenuti ieri ad Acerra in provincia di Napoli funerali del Monsignor Antonio Riboldi vescovo emerito della città dell'Interland Partenopeo ricordato spesso come il vescovo Anticamorra per la sua lotta alla criminalità organizzata. I funerali sono stati preseduti dal vescovo di Acerra Monsignor Antonio Di Donna mentre la sepoltura è avvenuta all'interno della cattedrale così come da desiderio del presule. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento con Pagine Vaticane domani pomeriggio alle ore 4.30. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento. A martedì prossimo!